Allora mister, nonostante un primo tempo, diciamo così, sembrava la fotocopia della gara con la Fortis, con tanti gol mangiati, con tante occasioni mangiate da parte dei giocatori della Massese, alla fine direi il risultato di 3-1 è sicuramente abbastanza stretto per la squadra a Puana. Ma per come era messa la partita no, perché insomma a quarta ora alla fine perdevamo 1-0, però è logico che nel compito dell'occasione noi abbiamo creato tanto, purtroppo l'abbiamo fatti solo alla fine e abbiamo sofferto fino all'ultimo, perché chiaramente finché non fai 3-1 nel recupero la partita non la puoi considerare vinta, però insomma con tutte le problematiche che avevamo credo che sia una prestazione ottima. Direi che spesso in giro, soprattutto in giro, si sente dire, la Massese magari frequenta dei campi di lignaggio leggermente inferiore, si sente dire che è una squadra sempre aiutata dagli arbitri. Oggi veramente l'arbitraggio è stato incredibile, metafisico. A me non mi piace parlare dell'arbitro, io ho la sensazione che il gol di loro era fuorigioco, netta perché ero in linea e poi forse ci poteva stare anche un rigore per noi, però non le voglio commentare. Chiaramente in queste prime quattro partite credo che episodi, errori a nostro favore non ce ne sono stati, semmeno c'è stato qualche errore a favore degli altri, però insomma dobbiamo avere fiducia nella classe arbitrale. Allora, cominciato con la classica squadra sistemata con 4-4-2, hai finito con 4-2-3-1, hai finito con quattro giocatori diciamo prettamente d'attacco in campo e un centrocampista a fare il terzino che tra l'altro si è comportato anche molto bene. Quindi diciamo che i giocatori della Massese devono imparare a fare un po' tutti i ruoli nel proseguo di questo campionato. Ma è chiaro che volevamo sfruttare un uomo più a centrocampo, pensavamo che loro si chiudevano, avere un vertice basso che è stato Tozzi. L'abbiamo cercato anche poco perché si è inserito molto bene la partita, però si è dimostrato eclettico anche quando l'ho spostato dietro, nel momento che abbiamo tentato il tutto per tutto, quando è entrato Costa, che è andato a fare addirittura il terzo difensore centrale. E pertanto insomma, credo complimenti ai ragazzi, complimenti a tutto il gruppo perché hanno voluto fortemente questa vittoria e credo che l'abbiamo strameritata. Allora, adesso guardiamo al futuro, la Massese potrebbe recuperare in settimana gli infortunati Zambarda e Vita, anche se non è sicuro, però di sicuro c'è che sarà disponibile Vignali e tornerà anche Taddeucci che ha scontato le sue tre giornate di squalifica. Quindi potremmo vedere contro la Virtus Castelfranco una squadra votata ancora di più alla vittoria, in trasferta. Ma sai, ora noi quando li abbiamo tutti sceglieremo il modulo perché la prima domenica avevamo quattro assenze e era forzato. Poi dopo è capitata la squalifica di Taddeucci, gli infortuni prolungati di Vita e di Zambarda. È chiaro che adesso avrò qualche scelta in più a disposizione e sceglieremo un modulo che ci possa dare sia solidità ma anche più pericolosità in fase offensiva. Gabriele Lazzirini, oggi vi siete presentati con una difesa munitissima addirittura per lunghi tratti con l'abbassamento di Gorelli a destra. C'erano cinque giocatori in linea che difendevano la porta di Tommei. La Rosignano Serosa è passata in vantaggio, poi ha cercato di conservare questo risultato, non ci è riuscita. Mi sembra però da una squadra della qualità della Rosignano Serosa è un po' poco oggi agli Olivetti. Abbiamo preparato la partita di rilevargli gli spazi, la profondità, di ripartire con gente veloce che abbiamo davanti. Il primo tempo ci è riuscito abbastanza bene, a tratti anche nel secondo tempo. Forse ci è mancato dopo l'1-0 il coraggio di fare il 2-0. Poi dopo la massese si sa, è una buona squadra, se gli concedi qualcosa da pagare a caro prezzo come abbiamo fatto alla fine la massese. Ma venire a massa, abbiamo fatto la nostra partita, è dignitosa, tranquilla, non ci deve scalfere niente questa sconfitta. Andiamo avanti per la nostra strada. Dopo il primo gol ufficiale in Coppa è arrivato anche il primo gol ufficiale in campionato. Ci avevi già provato nel primo tempo, non era andata benissimo. Sembrava magari una giornata stregata e invece al cinquantesimo l'hai messa dentro. Nonostante oggi hai avuto queste occasioni, hai fatto una partita interessante, di grande sacrificio. Sì, ho trovato il gol proprio all'ultimo e sono contento perché comunque sbloccarsi per un attaccante è importantissimo. Perché comunque fa morale e poi comunque dà più fiducia anche alla squadra. L'importante dopo la prestazione di domenica era comunque giocare bene e per la squadra. Perché poi comunque giocando bene dal gioco buono viene il gol. E oggi è stato così, è stato. Da un buon gioco è stato fatto il gol per la fine. Una notazione un po' di colore. Quando hai segnato ti sei avvicinato alla tribuna facendo il segno del cuore con le mani. Hai dedicato il gol a qualcuno in particolare. Sì, perché era un po' di tempo che la mia ragazza mi chiedeva se quando facevo gol me lo dedicava con il cuore. E siccome tutte le volte che ho fatto gol anche l'altro anno ero fuori caso oppure non c'era perché è andata da lontananza. Ho accolto l'occasione per fare il cuore. Allora, domenica prossima rientrerà Tadeucci dalla squalifica. Quindi sicuramente l'attacco della Massese acquisterà alcuni centimetri. Questo è fuori di dubbio. Ovviamente con un giocatore così possente a fianco, un giocatore agile come te dovrebbe trarne giovamento. Sì, Marino, la partita di pistola mi ha impressionato perché comunque è un giocatore che sa proteggere bene la palla, crea spazio e soprattutto non è il classico prima punta che sta ferma ma è una punta di movimento. E quindi mi aiuta molto anche a me perché movimentandosi lui crea spazio a me dove io posso usufruire dei spazi e viceversa che è curioso di movimento. La cosa importante è che Marino è anche alto nel senso al centimetro come hai detto te e poi permette comunque sui cross due punte in aria sempre meglio che una. Cristian Scalzo con noi oggi, anche questa giornata, una partita direi assolutamente sopra le righe. Per te e un po' meno per la tua squadra? No, secondo me per circa un'ora la squadra ha tenuto bene il campo. È vero che al primo tempo la Massese ha avuto due occasioni, è stato bravo Tomei, però noi alla prima occasione siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi bene o male dai si è gestita abbastanza bene. Peccato perché gli ultimi 15 minuti sono stati incredibili e abbiamo preso tre gol. Dalla tribuna la tua partenza sul rilancio lungo della difesa sembrava in posizione irregolare. Dal campo come l'hai vista? No, io sono andato, l'abito non ha fischiato, sono andato verso la porta e poi grazie a Dio sono riuscito a segnare. Indipendentemente da quello, ripeto, è un peccato perché si veniva da tre giornate importanti e oggi per circa 55 minuti siamo stati bravi e poi dopo, ripeto, non so cosa sia successo, comunque sia un complimenti alla Massese che non ha mollato e ha riuscito poi a farci tre gol. Dalla tribuna, ripeto, dove eravamo sistemati noi, ci è sembrato che sei andato dopo il gol a dire qualcosa alla panchina della Massese. Ci vuoi mettere al corrente? No, no, assolutamente, assolutamente, anzi, non ho nessun motivo per andare nella panchina della Massese, anche perché non conosco nessuno, a parte l'allenatore, così ci conosciamo per nome, ma non ho nessun problema con Massa, anzi, quando ero senza squadra avevo anche chiesto tramite Emilianti di venire qua, ma qualcuno non ha accettato, quindi assolutamente no. Il vostro campionato mi sembra sia iniziato, come hai detto giustamente, benissimo, qual è l'obiettivo della Rosignano Sei Rose? Ma, chiaramente la salvezza, abbiamo fatto sette punti, sto guardando la classifica adesso, siamo, inizio oggi siamo nei play-off, quindi siamo contenti. Domenica scorsa dopo la partita e martedì quando ci siamo trovati, il mister giustamente ha detto non montiamoci la testa, rimaniamo con i piedi per terra. Oggi non credo che siamo venuti qua montati, ma pronti per giocarci questa grande partita in questo bellissimo stadio e purtroppo non è andata bene. Ora andiamo a casa, pensiamo agli sbagli che abbiamo fatto e poi da martedì si ricomincia, perché il calcio è bello per questo che Domenica ti dà la possibilità di poter riscattarsi subito, tra l'altro con un'altra nobile del campionato che è la Spal. Sì, diciamo che non abbiamo dominato per 90 minuti, ma per 70 sì, perché i primi 20 minuti del primo tempo secondo me siamo andati in campo un po' blandi, infatti abbiamo preso subito il gol, poi dopo piano piano siamo riusciti a venire fuori con questa cattiveria come abbiamo messo nel secondo tempo e siamo riusciti a ribaltare il risultato e poi vincerla. C'è qualcosa ancora che non va nei meccanismi automatici, per esempio quando riesci ad andare al cross spesso vengono fuori dei cross sul secondo palo, ma sul secondo palo non c'è nessuno, c'è qualcosina ancora da registrare, anche perché per altre squadre è già difficoltoso arrivare al cross, mentre la Massese riesce con una certa regolarità ad arrivare sul fondo. Sì, noi al cross arriviamo bene, poi giustamente dentro non è mai facile capire dove va la palla e cerchiamo di lavorarci anche in settimana, poi quando si arriva la domenica è tutto più difficile. Mentre invece per quello che è successo sul passaggio che hai scodellato per Costa non c'era nessun problema, Costa era sul secondo palo, addirittura è entrato dentro con la palla, grande azione quella, la tua liberarti sulla destra. Sì, mi ha dato una grande palla Dario come molte altre, poi sono riuscito a vederlo un po' con la coda dell'occhio, poi giustamente gli è andata la palla nei piedi e poi ha fatto con la porta a voto, ancora meglio. Domenica prossima una gara a Castelfranco con importanti rientri sicuri e probabili nella Massese, quindi la squadra bianconera potrà andare in Emilia con l'intento di portare via la posta intera in palio? Sì, noi cercheremo di mettere il massimo anche perché si rientra tutti e siamo una rosa molto ampia e speriamo con i nuovi rientri siamo ancora più forti.